Buonasera a tutti, ci darei innanzitutto a ringraziare l'Università Antoniano per la splendida accoglienza, veramente calorosa. Entrandoci si sente quasi in famiglia e questo permette di lavorare, almeno per quel che mi riguarda, con più serenità anche con un pizzico di emozione. Grazie a tutti i presenti, ci sono anche degli studenti che hanno l'ardore di seguire le mie discussioni. Grazie per la vostra presenza, tutti i colleghi, amici e molto più esperti di me. Durante la mia relazione farò riferimento ad alcune slide, si tratta per lo più di estratti di testi o immagini di alcuni manoscritti. Li farò scorrere al momento che spero sia quello più opportuno in relazione al testo che sto leggendo, spero che il tutto sia il più possibile chiaro. Allora, il tema è Onorio III e Lars Predicandi. Nelle tenebre e nell'ombra della morte. E con queste drammatiche parole, tratte dal cantico del Benedictus del Vangelo di Luca, che Onorio III si riferisce alla regione di Tolosa, dove l'eresia si è diffusa in modo capillare e allarmante. In una lettera che indirizza il 19 gennaio 1217 ai maestri e agli studenti dell'Università di Parigi, il pontefice denuncia le mortifere conseguenze della diffusione dell'eresia nella Francia meridionale, usando appunto le immagini delle tenebre e della morte. E nello stesso tempo riconosce che le iniziative di contrasto fino ad allora promosse si sono rivelate utili, ma non sufficienti, a purificare del tutto questa regione della cristianità. Onorio III usa la parola, un verbo proprio, emundare. Tale missiva, il cui incipit è Olim in Partibus, è oggi conservata in originale Osarchive Nazionale di Parigi, ed è stata anche trascritta nei registri della corrispondenza di Onorio III, custoditi, come è noto, all'Archivio Apostolico Vaticano. Si tratta di un documento particolarmente significativo, non soltanto perché rivela la predisposizione dell'autore a denunciare le derive della dissidenza religiosa, in questo caso albigese, ma anche perché mostra la volontà della sede apostolica di consolidare la collaborazione con i teologi dell'Università di Parigi, nell'ottica del recupero dei fedeli all'ortodossia. In effetti, con la Olim in Partibus, Onorio III invita i suoi corrispondenti universitari a recarsi a Tolosa con una precisa missione, quella cioè di insegnare, predicare ed esortare. A coloro che accolgono tale invito, stabilendosi nel Tolosano, il Papa non esita a promettere il perdono dei peccati. In cambio di tale concessione, ai magistri predicatores è richiesto un impegno volto ad applicare al particolare contesto del Midi il loro già consolidato modus operandi, caratterizzato da legame tra esegesi del testo biblico, l'Alexio, e pratica della predicazione, nella sua articolazione tra predicatio ed esortatio. Come ha già messo in luce una feconda tradizione storiografica, di cui esponenti di rilievo sono stati tra gli altri Louis-Jacques Bataillon e Nicole Berrioux, il legame tra lexio e predicatio è alla base del lavoro e del successo istituzionale e sociale dei maestri secolari in sacra pagina degli inizi del Duecento. Questo stesso legame caratterizza in realtà anche l'approccio di Onorio III all'Ars Predicandi e più in generale al Governo della Chiesa. Pur dimostrando rispetto ai teologi parigini una diversa e più personale sensibilità ermeneutica al testo biblico, Onorio III condivide infatti l'idea che per diffondere la multiforme grazia di Dio estirpando la malapianta dell'eresia sia necessario ricorrere alla regolare attività di predicazione e all'ausilio di predicatori in grado di esporre in modo appropriato il contenuto della rivelazione divina. Sono coloro che la Olimin Partibus definisce come dispensatores. Questa convinzione il pontefice ha modo di riperdere più volte durante il suo pontificato al punto poi di promuovere sul terreno una serie di sperimentazioni che pur non rivelandosi sempre di successo contribuiscono comunque a dare nuovo slancio alla pastorale ecclesiastica e anche concretezza e visibilità alle aspirazioni primaziali della sede apostolica. Del resto la stessa richiesta veicolata dalla Olimin Partibus ai maestri dell'Università di Parigi non sembra aver avuto seguito. Eppure è a partire da questo documento che inizia a prendere forma l'iniziativa del pontefice in vista della promozione della disciplina della predicazione. Il rapporto tra Onorio III e Lars Predicandi è da alcuni anni divenuto oggetto di un certo interesse da parte della storiografia. Ciò ha contribuito a mettere in luce le principali caratteristiche di tale rapporto. Molto tuttavia resta ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda l'edizione critica delle fonti, tanto documentarie, mi riferisco alle lettere pontifice, quanto letterarie, i sermoni. In questa sede ci si limiterà pertanto a presentare un sintetico e provvisorio bilancio storico e storiografico della questione, tratteggiando dapprima e in modo più approfondito il personale modus predicandi di Onorio III e poi analizzando più brevemente alcune delle iniziative da lui promosse per sviluppare l'attività di predicazione su scala internazionale. La vicenda relativa ai principali ordini mendicanti, minori e predicatori, che lo stesso Onorio III sostiene, accompagna e legittima anche in senso istituzionale, resterà solo sullo sfondo. E ciò non soltanto in considerazione dei più specifici interventi sull'argomento previsti durante il convegno, ma anche perché ciò che soprattutto si intende evidenziare con questo contributo è la complessa e articolata realtà che in buona parte è ancora da indagare che accompagna a dispiegarsi dell'azione del papato a favore della predicazione. Se c'è un elemento che più caratterizza la vicenda personale di Onorio III al secolo cencio è il suo legame con Roma. È infatti nella città eterna che egli ha modo di formarsi culturalmente e anche affermarsi come protagonista della curia papale. Dapprima come canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore e poi come responsabile della Camera Apostolica, il giovane cencio riesce a creare un'ampia serie di relazioni personali che gli permettono di ottenere la nomina cardinale nel 1193 e infine a quella pontefice nel 1216. Pertanto il suo curso sonorum si svolge principalmente a Roma e a stretto contatto con il personale curiale. Il futuro Onorio III dimostra fin dal periodo della sua formazione una particolare propensione per le pratiche di scrittura e la predicazione. Il celebre Liber Censum Romane Ecclesiae, che in qualità di camerario redige nel 1192, ne è una ma non l'unica testimonianza. In quest'opera, che riunisce testi di varia natura, cencio riserva un certo spazio alla descrizione del Lordo Romanus. Come le recenti ricerche di Enrico Dumas e Filippo Sedd hanno dimostrato, tale inserzione nel Liber Censum non è affatto casuale o estemporanea, ma risponde piuttosto alla volontà di dare una sistemazione più organica a livello scritto dalla tradizione liturgica romana e papale, una tradizione che era caratterizzata dalla forte interconnessione tra ars celebrandi e ars predicandi. Roma, infatti, si era nel tempo trasformata, grazie in particolare all'impulso dell'ambiente curiale in una sorta di enorme palcoscenico sacro, dove si alternavano nel corso dell'anno liturgico celebrazioni, riti e predicazioni presedute dai pontefici e dai membri del collegio cardinalizio. La presa della parola da parte di papi e cardinali nello spazio pubblico romano è un fenomeno che gradualmente assume carattere più precisi anche a livello letterario e stilistico. L'immediato predecessore di Onorio III, e cioè il più noto, almeno storiograficamente parlando, Innocenzo III, aveva già fatto tesoro di tale evoluzione, riprendendola e amplificandola sia attraverso la creazione di nuovi percorsi funzionali alla sua attività di predicatore itinerante all'interno dell'urbe del patrimonio di San Pietro, sia con la pubblicazione di una collezione di sermoni modello, destinata a un notevole successo in termini di circolazione manoscritta. Di tutto ciò, Cencio è un testimone e anche un protagonista. Già durante il periodo del suo cardinalato, che si protarae per tutto il pontificato innocenziano 1198-1216, egli consolida la propria fama di predicatore, proclamando sermoni e presedendo liturgie nelle basiliche e nelle chiese romane. Il cardinale Cencio conserva memoria scritta delle sue allocuzioni, probabilmente nella forma di note stenografiche, nella prospettiva di rielaborarle e magari pubblicarle. Nello stesso tempo, come ha già fatto notare nei suoi studi la storica dell'arte Eva Ponzi, Cencio conferma il suo legame anche materiale con Roma, predisponendo e finanziando una serie di opere artistiche e monumentali che rispondono ad una precisa e coerente visione d'insieme, funzionale alla celebrazione della città eterna e della sua tradizione storico-religiosa. Non meraviglia perciò che, dopo essere stato scelto come successore di Onnocenzo III, Cencio, ormai Onorio III, amplificò ancora di più tale tendenza, con l'ambizione di proiettare urbi e torbi la propria immagine di predicatore. Non sono rare, infatti, le contemporanee testimonianze cronistiche che confermano questa realtà. Tra le più singolari vi è quella dello svevo Burcardo di Ursberg, che rivela nella propria cronaca di aver assistito durante un suo viaggio a Roma ad una predicazione di Onorio III, rimanendone impressionato, sia per il forte coinvolgimento emotivo del pubblico, sia per il contenuto dello stesso sermone. Secondo Burcardo, infatti, il pontefice avrebbe in tale occasione rivelato di essere stato beneficiario, quando era ancora un giovane chierico di Curia, di un'apparizione dell'apostolo San Pietro, che gli avrebbe rivelato il suo futuro alla guida della Chiesa romana e anche suggerito alcune priorità di governo, a partire dall'organizzazione della crociata gerosolimitana. Al di là dell'attendibilità storica di questa rivelazione soprannaturale di cui Cencio avrebbe beneficiato, la testimonianza del cronista Burcardo è importante perché conferma la sapiente e per niente improvvisata ricerca del contatto con i fedeli, che è uno dei tratti tipici della predicazione del pontefice. Un contatto che restava comunque inserito all'interno di un'elaborata scenografia cerimoniale liturgica e sviluppato sulla base di una sorta di gioco di specchi tra prossimità e alterità dello stesso pontefice rispetto ai fedeli. Onorio III si dimostra sensibile dall'efficacia della propria predicazione e per tale ragione, pur non rinunciando mai alla mise en scène delle sue pubbliche apparizioni, insiste in modo particolare sulla simplicitas nella comunicazione al pubblico del messaggio. Di questa ricercata semplicità espositiva, che non va intesa come indice di approssimazione o incultura, il Papa dà prova nei sermoni che riunisce in fine pubblica nella forma di collezione intorno al 1220. In quest'opera, la cui edizione critica sembra finalmente essere entrata in fase di progettazione, Onorio III riunisce i sermoni da lui proclamati, in latino e in volgare, al clero e ai fedeli romani. I 67 testi de tempore de sanctis che compongono la collezione sono perciò testimonianza dell'effettiva e reale predicazione del pontefice, che ha provveduto anche alla diffusione della sua opera tramite l'invio a dei selezionati destinatari dei manoscritti, che sono stati verosimilmente assemblati nella curia romana. I quattro codici che trasmettono la collezione omiletica onoriana contengono diverse lettere e prefazione di accompagnamento, nelle quali l'autore spiega origine e finalità della sua opera, nonché le ragioni della scelta dei destinatari. Si tratta dei frati del convento domenicano di Bologna, dei canonici della basilica romana di Santa Maria Maggiore, dei monaci dell'abbazia di Sitot e del camerario papale Pandolfo Verraccio. Vedete, ecco, mostro uno dei quattro manoscritti oggi conservati in Francia, con la tabula dei sermoni, ciascuno dei quali ha il suo proprio tema biblico. Pur nell'impossibilità di dare conto in questa sede dei molteplici e complessi aspetti filologici, letterari e storici relativi a quest'opera, è comunque possibile evidenziare, seppure sommariamente, alcuni elementi che sono preziosi per comprendere modalità e contenuti della predicazione papale. L'aspetto, almeno dal punto di vista compositivo, che forse con maggiore chiarezza emerge dall'analisi dei sermoni, è il rapporto, a cui si è già accennato all'inizio della relazione, tra lexio e predicazio. Il Papa pone infatti come base teorica e tematica dei suoi sermoni l'esegesi del testo biblico. Più che ispirarsi all'esempio del cosiddetto sermo modernus, o tematico, caro ai teologi parigini a Innocenzo III, Onorio III preferisce invece riprendere un modello forse più tradizionale, ma non per questo meno significativo, quello cioè dei padri della Chiesa. Le autoritate, che Onorio III cita più spesso a supporto delle proprie argomentazioni, sono dunque rappresentate dagli autori biblici e patristici, a cominciare da Gregorio Magno, in particolare Leo Emuelie e la regola pastorale. Onorio prova su tale base a sviluppare i propri sermoni, articolandoli nel senso della spiegazione letterale e allegorica della pericope biblica oggetto di commento. L'espressione da lui più volte utilizzata, cito, notate singula verba, signate profunda misteria, esprime in modo icastico il suo approccio esegetico, che benché volutamente semplice anche a livello linguistico, rivela in realtà una profonda conoscenza delle sacre scritture. In tal senso Onorio prova innanzitutto a mostrare la coerenza e continuità della rivelazione divina, impostando sovente la propria interpretazione sulla base di un confronto tra i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. La storia e personaggi dell'Israele biblico sono così da lui richiamati e interpretati in senso tipologico, come prefigurazione cioè della vicenda di Cristo e della Chiesa da lui fondata. Questa insistenza sulla correlazione tra l'uno e l'altro testamento è particolarmente evidente nei sermoni noriani e in ciò si riscontra una forte continuità con l'opera omiletica del predecessore Innocenzo III. Un esempio piuttosto eloquente, anche perché inserito nel contesto di una riflessione relativa al primato pontificio, è offerto dal sermone Venit Iesus in partes Cesareae, pronunciato in occasione della festa della Cattedra di San Pietro, il 22 febbraio. In questo testo, Onorio III identifica come precedente tipologico della sua funzione la figura di Mosè. La guida del popolo ebraico durante l'esodo dall'Egitto verso la terra promessa è una figura chiave nell'esegesi del pontefice, che infatti in più occasioni ad essa fa riferimento presentandolo come primus et maximus profetarum. Nell'interpretazione del pontefice, il carisma profetico di Mosè, consistente nella sua capacità di comprendere e rendere nota la volontà divina, è messo in relazione alla sua funzione di guida del popolo eletto. Ed è appunto tale duplice funzione di profeta e guida, Ispirare Onorio, che Mosè trova una sorta di precedente biblico legittimante, in merito alla sua funzione di successore di Pietro e titolare della plenitudo potestatis. Ancora più esplicito a riguardo è il sermone Ecce Sacerdos Magnus, proclamato nella Basilica di San Giovanni in Laterano in occasione della festa di San Silvestro, del Papa cioè a cui si attribuiva la consecrazione della stessa Basilica romana voluta dall'imperatore Costantino. Nel suo sermone, Onorio III riprende tale leggenda di fondazione, inserendola nel contesto di una più ampia riflessione sulle origini bibliche del sacerdozio ed in particolare della figura del gran sacerdote. In tal senso viene identificata una linea di continuità ideale tra il re sacerdote Melchisedec, i sacerdoti incaricati di ufficiare nel Sancta Santorum dell'Antico Tempio di Gerusalemme, e il pontefice che il Laterano presiede i più importanti riti dell'anno liturgico. In tale contesto, il Papa ricorre ad un'espressione in realtà già utilizzata da Innocenzo III nel suo celeberrimo sermone Desiderio Desideravi, apertura del Quarto Lateranense del 1215, e questa espressione è quella di Speculator Super Domum Israel. Ed è come appunto Sentinella, indagatore sulla Casa di Israele, cioè sul popolo di Dio che è ormai riunito nella Chiesa come Verus Israel, che il Papa si considera e si presenta. Tale rivendicazione, fondata ancora una volta sul parallelo tra Antico e Nuovo Testamento, o meglio, tra Antica e Nuova Alleanza, non ha soltanto un valore retorico, perché attraverso di essa Onorio III rivendica una precisa funzione di governo, quella cioè di controllo sulla Chiesa e sulla società cristiana. Per tale ragione il sermone Ecce Sacerdos Magnus lancia ampio spazio, da una parte alla rivendicazione del primato giurisdizionale del Pontefice, dall'altra alla proposizione della figura del buon pastore che guida e corregge i fedeli. In tal senso viene ripreso uno dei temi in realtà più frequenti nei sermoni onoreani, quello cioè della responsabilità pastorale del clero. L'opera di Onorio è in effetti caratterizzata da una forte retorica pastorale, ispirata agli scritti e al vocabolario di Gregorio Magno, e sviluppata tramite la combinazione esegetica di due pericope bibliche, quella cioè del buon pastore che dà la vita per il proprio gregge dal Vangelo di Giovanni e quella dell'invio in missione da parte di Gesù dei settantadue discepoli dal Vangelo di Luca. Se da una parte perciò con i suoi sermoni il Papa prova a dare un fondamento anche biblicamente solido al primato della sede apostolica, dall'altro mira a proporsi lui stesso, e ciò innanzitutto agli occhi del clero come superiore modello di pastor bonus, che agisce verbo et esempio. Tale proposizione Onorio la sviluppa anche in senso polemico, come fa sempre nel sermone Ecce Sacerdos Magnus, in cui appare un'ironica e quasi ritmata denuncia dell'incoerenza tra vita e parola di prelati e chierici. E quest'ultimo passaggio che vedete nella slide, quanto sono numerosi i predicatori, quanti sono pochi coloro che vivono la parola che annunciano. Quello è l'estratto del manoscritto che poi è trascritto nella sezione finale della slide. Dalla constatazione di tale incoerenza tra parola e vita, il Papa trae due conseguenze. La prima riguarda l'invito agli ecclesiastici a riconsiderare il proprio comportamento e la propria missione, aderendo al progetto di riconquista pastorale dei fedeli che il IV Concilio Lateranense aveva già riconosciuto come una priorità. Onorio indica come strumenti della cura animarum l'attività di predicazione e quella di controllo e sanzione dei fedeli da perseguire tramite l'amministrazione del sacramento della penitenza e il ricorso, quando necessario, a misure coercitive, in particolare alla scomunica. E' ciò che afferma ad esempio il sermone messi squida multa, proclamato nella festa degli evangelisti. In questa omelia si chiarisce che il compito principale dei prelati è quello di, cito, predicare, ammonire e correggere i fedeli. L'esercizio di tali responsabilità, che è legittimo in quanto fondato sulla concessione al clero della potestas predicandi et corrigendi, è tanto più necessario a causa dell'intraprendenza dei movimenti ereticali, che come ricorda un altro sermone, ecce ego mito vos, riscuotono successo grazie alla loro attività di predicazione pubblica. Onorio denuncia con forza nei suoi sermoni la forma stessa delle omelie degli eretici, che a suo giudizio sono retoricamente elaborate con il solo scopo di ingannare e sedurre i semplici. Nello stesso tempo, però, il Papa richiama anche i prelati all'impegno nella predicazione regolare. Ad esempio, nel sermone Vosestis Sal Terre, pronunciato in occasione della festa di San Gregorio Magno, il Papa, accanto alla denuncia dell'exemplum perdizionis offerto da alcuni vescovi, presenta come vero e proprio modello pastorale colui che è consapevole della propria duplice funzione di predicator e di claviger, cioè di custode, che garantisce l'accesso o, in caso contrario, l'esclusione dal Regno dei Cieli. L'invito a riformare la propria vita e missione pastorale che Onorio III rivolge al clero è poi associato nei suoi sermoni all'indicazione di uno strumento pratico di intervento, quello cioè della nomine e dell'invio di nuovi predicatori disposti a lavorare nella vigna del Signore, diffondendo tra i fedeli una dottrina, cito, sana, integra et sine errore. Nei suoi sermoni il Papa non fa esplicito riferimento a specifiche categorie di predicatori, anche se l'invito già fatto ai vescovi dal quarto lateranense a costituire nel loro diocesi viri idonei per la predicazione deve avere in qualche modo influenzato la formulazione di questa sua proposta. Ad ogni modo, su di esso Onorio III ha modo di ritornare con una certa insistenza, quasi volesse preparare il terreno a possibili nuove iniziative. Ed è infatti, attraverso l'enfatizzazione della negligenza pastorale del clero e dell'espandersi del mortifero veleno dell'eresia, che Onorio III lascia aperta la possibilità di un intervento diretto della sede apostolica nell'ambito della predicazione. Il fatto che i temi dei sermoni papali siano spesso ispirati alle pericopi bibliche relative all'invio e missione degli apostoli da parte di Gesù non è in definitiva casuale. Anzi, ciò conferma una singolare linea di tendenza che lo stesso Onorio avrà modo di confermare con le iniziative che, in quanto vicarius Christi, promuove su larga scala attraverso la nomina e l'invio di predicatori. Sarebbe magari eccessivo ipotizzare in tal senso l'esistenza incuria di un progetto prestabilito a tavolino, che poi sarebbe stato applicato sul terreno con esiti più o meno positivi a seconda dei casi. Dall'analisi della documentazione, a partire da quella papale, sembra comunque emergere una certa capacità di intervento da parte della sede apostolica, che agisce nei diversi contesti tenendo conto degli stimoli, delle necessità e spesso anche delle richieste che provengono dall'esterno. Le modalità e gli esiti degli interventi del Pontefice sembrano di conseguenza piuttosto configurarsi nella forma di una, per così dire, prassi istituente, che risponde innanzitutto alla volontà di dare immediate e almeno in parte emergenziali soluzioni al problema che il Pontefice stesso avverte e denuncia come il più urgente, quello cioè della modesta propensione all'attività pastorale di una buona parte dell'episcopato e del clero. Tale prassi istituente, pur modellandosi in modo diversi sulla base delle singole contingenze, tende tuttavia a configurarsi secondo alcuni caratteri generali, riscontrabili pure a livello procedurale e con esiti anche istituzionalmente e storicamente rilevanti. A parte l'esempio degli ordini mendicanti, si può a tal proposito fare riferimento al consistente gruppo di ecclesiastici, spesso ma non soltanto membri della Curia Romana, che riceve da Onorio III l'incarico di condurre missioni dentro e fuori confini della cristianità, con la prerogativa di esercitare l'officium predicazionis. A questi predicatori apostolici il Pontefice affida mandati scritti, che servono da una parte a legittimarne e a spiegarne l'incarico nelle strutture ecclesiastiche di base, dall'altro a rencare responsabilità prerogative e limiti dell'autorità loro delegata. In particolare, nei preamboli di queste lettere si ritrovano alcune immagini di ispirazione biblica che, oltre a rivelare l'esistenza di un comune repertorio tematico, molto simile a quello usato nei sermoni, servono a fornire il quadro di interpretazione delle missioni pontifice. Due immagini in particolare meritano di essere evidenziate. La prima è quella ripresa dal Vangelo di Matteo degli Operai mandati nella vigna del Signore nell'undicesima ora. Questo riferimento, nel dare una venatura quasi escatologica all'iniziativa missionaria, l'undicesima ora richiama biblicamente la prospettiva della fine dei tempi, serve innanzitutto a dare credito all'idea che a motivare l'invio dei predicatori apostolici vi sia una situazione di urgente necessità, a cui il pontefice, in quanto responsabile ultimo della vigna del Signore, ha il diritto e il dovere di rispondere. La seconda immagine presente nei preamboli delle lettere onoriane è quella dei predicatori come profeti. Un'immagine di certo classica, peraltro ampiamente presente nell'opera di Gregorio Magno, e che Onorio III utilizza per accreditare i suoi predicatori come autentici messaggeri della parola divina, che agiscono con l'autorevolezza che deriva da un formale atto pontificio. Chi predica in nome della sede apostolica si presenta dunque nelle vesti di profeta, che agisce nella prospettiva di una situazione di necessità, quella cioè relativa alla conversione da attuare prima della fine dei tempi, sia di chi cristiano lo è già, seppure solo nominalmente, sia di chi cristiano non lo è ancora. In tal senso, allora, va interpretata la lettera generale o circolare che Onorio indirizza i prelati di quasi tutta la cristianità il 25 marzo 1221. Si tratta dell'ormai famosa Ne Sisecus. Con essa il Papa rivela l'ambizioso progetto di costituire nella curia romana una sorta di scuola di evangelizzazione, destinata ad accogliere chierici e monaci desiderosi di formarsi e poi di lanciarsi nella predicazione a Gentes. Onorio ripropone in questo documento le sue classiche idee in merito all'urgenza e al significato della predicazione, ribadendo la necessità, specie per i religiosi, di equilibrare meglio le esigenze della vita contemplativa con quelle della vita attiva e indicando nella disponibilità ad annunciare la parola divina il più importante compito dei missionari, che non devono neanche temere di aprirsi alla prospettiva del martirio per la fede. Come già stamattina ha ricordato il professor Malecec e come anche hanno ricordato i recenti studi di Attilio Bartolilangeli a Narita dei Prosperis, all'epoca la cancelleria papale era considerata un centro di eccellenza nell'Ars Dictaminis. Se anche la Nessi Secus, se però la Nessi Secus abbia avuto un seguito, è argomento ancora oggi di discussione. Dell'esistenza di scuole di evangelizzazione nella Roma della prima metà del 200 non sembrano esserci tracce. Tuttavia è proprio la Nessi Secus a dare inizio ad una serie di vere e proprie campagne missionarie internazionali coordinate dal papato. Esemplari sono in tal senso due casi, sui quali mi soffermo brevissimamente, e per poi concludere, relative a due diversi contesti geopolitici e come protagonisti due personalità di assoluto rilievo storico. Il primo esempio riguarda la regione del Baltico, verso la quale durante il pontificato noriano sono organizzate sempre più decise campagne missionarie, volte a cristianizzare le locali popolazioni pagani e a porre le premesse per la costituzione di una gerarchia ecclesiastica. Onorio decide di intervenire in questa regione, che è ritenuta strategica in vista della exaltatio cristianitatis, nominando come legato plenipotenziario uno dei suoi più stretti collaboratori, il monaco certosino Guglielmo del Piemonte. Costui che prima di ricevere tale missione aveva ricoperto l'incarico di responsabile della cancelleria papale e poi dal 1222 quella di vescovo di Modena, riceve dal papalo una lettera di raccomandazione che si può considerare come un autentico manifesto missionario. Onorio III infatti specifica nella cum is qui del 31 dicembre 1224 che il suo legato è inviato ad evangelizandum in partibus livonie ac prussie e che le ampie prerogative lui accordate sono giustificate in considerazione della plenitudo potestatis del pontefice e della mancanza di predicazione in una regione di confine. A Guglielmo del Piemonte Onorio si riferisce nel suo documento con l'espressione, che richiama i viridoni del quarto lateranense, di persona idonea. E in effetti idoneo Guglielmo si dimostra. Durante i successivi tre anni della sua missione il vecchio vicecancelliere papale acquista familiarità con le lingue delle popolazioni locali, con le quali cerca un contatto diretto, inaugura una serie di campagne di predicazione, nomina collaboratori e mantiene contatti con la curia romana. Per rendere più incisiva la predicazione e la successiva costituzione della Chiesa, specie in Estonia e Lituania, Guglielmo segue l'andamento delle campagne militari che nella forma di crociata in quegli anni si susseguono in questa regione. Ed in tale contesto comincia ad emergere il legame, destinato in seguito a divenire sempre più stretto e per certi versi anche ambiguo, tra iniziative missionarie e crociata. Il secondo esempio più breve di predicazione sul mandato pontificio riguarda invece il regno di Germania e vede come protagonista uno dei più influenti cardinali dell'epoca, Corrado di Porto. Nel marzo del 1224 questo brillante prelato tedesco, nonché ex abbate di sito, è incaricato da Onorio III della predicazione in Germania. Il suo compito è quello di diffondere il verbum crucis, cioè il messaggio crociato, coordinando una ramificata equippe di predicatori che agiscono nelle diverse diocesi locali. Si tratta di alcuni chierici, monaci e del frate Giovanni il Teotonico, futuro generale dell'ordine domenicano. La cancelleria papale redige a beneficio di Corrado di Porto e dei suoi copredicatores una ricca serie di documenti che ne specificano compiti e privilegi, finendo di fatto con il riconoscerli, quasi fossero un gruppo anche istituzionalmente definito, come predicatores speciales, esenti dalla giurisdizione ordinaria aspettante agli ordinari diocesani e dipendenti in ultima istanza da Roma. Corrado di Porto si dimostra durante due anni circa di missione in Germania particolarmente provenzo nel contatto con i fedeli, proclamando sermoni al clero e al lacato. La sua personale sensibilità per l'aspre di Candi è testimoniata da un manoscritto a lui appartenuto e già segnalato nei suoi studi sulle biblioteche cardinalizie d'Agostino Paravicini Bagliani, contenente una serie consistente di sermoni. Eccolo. Il codice che li conserva in Francia rega oggi il titolo di Summa sermonum de tempore et festis. Nell'ultimo foglio del manoscritto che vedete nella diapositiva appare la nota di possesso dell'abbazia di Cito, correlativa indicazione del precedente possessore Corrado, cardinale vescovo di Porto e legato apostolico. La parte che vedete... Mentre nei primi fogli del codice appare un elegante indice della collezione dei sermoni suddivisa in base al tema biblico. Anche se tuttora permangono dubbi in merito all'attribuzione dei singoli testi, è certo che la maggior parte siano opera di alcuni tra i più noti maestri o ex maestri dell'Università di Parigi. Circa una trentina dei sermoni di questo codice sono ad esempio opera del magister Stefano Langton, che oltre ad essere all'epoca conosciuto con il nome di lingua tonante, era anche membro del collegio cardinalizio e perciò collega dello stesso Corrado di Porto. Il fatto che un cardinale legato di Onorio III conservasse con tanta cura, probabilmente usandoli come fonte di ispirazione per le sue proprie allocuzioni, i sermoni dei teologi parigini non deve meravigliare. Il legame tra Roma e Parigi, fondato sulla comune adesione ad un'idea di riforma teologica e pastorale fondata sulla combinazione di lezio e te predicazio, era in effetti destinato a consolidarsi durante il pontificato di Onorio III. La lettera Olim in Partibus, citata all'inizio della relazione, ne è una dimostrazione. Quali conseguenze, e concludo, abbia avuto tale legame è ancora del tutto da chiarire a livello storiografico. Onorio III cerca con una certa insistenza dei referenti nell'Università di Parigi disposti a collaborare all'attività missionare da lui promosse, e ciò non soltanto per contrastare l'eresia nella Francia meridionale. I suoi interventi diventano sempre più invasivi, generando talvolta anche resistenze da parte dei maestri secolari, che si dimostrano piuttosto attenti nella difesa della propria autonomia istituzionale e didattica. Certo è che proprio Onorio III, nel tentativo di avere a disposizione dei predicatori teologicamente e dialeticamente preparati, pone le premesse per l'ingresso nel mondo universitario dei frati dei novelli ordini mendicanti. Ad avvantaggiarsi per primi di tale sostegno sono i confratelli di Domenico di Caleruega. L'installazione dei frati predicatori a Parigi è infatti accompagnata da una serie di interventi scritti della Curia. Un esempio è data dalla lettera con la quale il primo dicembre 1219 il Papa autorizza i frati a celebrare l'ufficio divino nella chiesa che è stata loro donata dagli stessi maestri dell'università. Anche nei confronti dello sviluppo e della formazione dei minori l'attenzione del pontefice non manca, come dimostrano tra le altre cose le lettere di raccomandazione che a loro favore indirizza fin dal 1219 al Vescovo Guglielmo di Parigi. A portare poi a terra e a compimento l'ingresso nell'università dei confratelli di Francesco d'Assisi sarà come noto Gregorio IX. Se in fondo Onorio dimostra una così chiara sollecitudine nei confronti di questi due ordini mendicanti, è anche perché ne condivide le aspirazioni che sono funzionali alla più generale tendenza del papato a promuovere e nello stesso tempo a controllare l'ars predicandi. Non è perciò un caso che nei documenti con i quali il Papa a partire dal 1225 affida ai frati predicatori e minori la missione di predicare nelle regioni islamiche del Nord Africa, a partire dalla celebre Viniam Domini Custodes del 7 ottobre, egli riprenda lo stesso repertorio di immagini, concetti ed espressioni già da lui utilizzate nei suoi sermoni e nelle lettere indirizzate ai predicatores speciales. E così l'autorità di Onorio III come superiore responsabile della custodia e dell'ampliamento della vigna del Signore è riaffermata e l'idea di una missione urgente e necessaria che si manifesta istituzionalizzandosi anche nella forma di nuove esperienze di vita religiosa trova un'ulteriore legittimazione. Tutto ciò è fatto sempre in nome della necessità e dell'utilità della Chiesa, di cui in ultima analisi il Pontefice che governa e predica si presenta come l'interprete e il garante. Grazie per la vostra attenzione.